Trentesima edizione della passeggiata ecologica a Brufa, siamo con il presidente della Proloco Massimo Fico. Prima parlavate con alcuni componenti storici, che eravate partiti 100 persone, adesso avete dei numeri stellari. Eh sì, è giusta questa riflessione perché questa splendida iniziativa è iniziata quasi per caso nell'intento di far rivivere i momenti più belli della vita contadina e quindi come circoloarci allora e poi come Proloco demmovita questo bellissimo momento di rivisitazione dell'ambiente, della nostra cultura, della nostra identità. Poi l'evento è cresciuto così come è cresciuta tutta la storia della nostra associazione che si è arricchita come voi sapete poi con la manifestazione di scultori a Brufa e quindi questa qualità ha contribuito a che questo evento potesse arrivare a numeri importanti come le 6-700 persone presenti ogni anno tra le vigne di questo splendido paesaggio brufano e che come ogni anno, tra qualche momento lo vedremo, potranno usufruire anche della gastronomia locale. Presidente, quanto è difficile organizzare una manifestazione come questa in tempi di crisi? Diciamo che è sempre difficile organizzare eventi come questi noi riusciamo a farlo grazie alla dedizione dei volontari che ormai sono molto esperti e quindi hanno la capacità di essere efficienti, di razionalizzare le spese e di dare prova di grande, ripeto, di grande spirito e generosità e poi siamo assistiti anche da istituti, da privati che ci danno, come dire, una mano ci danno una collaborazione. Voglio ringraziare appunto per l'occasione le cantine Margaritelli che da 4-5 anni, oltre a darci il supporto logistico contribuiscono a pieno affinché la tradizionale sosta per la colazione di questa passeggiata possa riuscire al meglio, insomma. Gianfranco Ciuchicchi è stato per tanti anni il presidente della Proloco adesso ovviamente non è il suo più il turno ma è sempre presente sul campo state preparando un pranzo per? Sì, stiamo preparando un pranzo per 600 persone circa ma questo bisogna ringraziare sempre le persone che ci aiutano tutto l'anno che si dedicano qui a questa meravigliosa Proloco nel senso che è una Proloco abbastanza unita in una Proloco che ogni evento che organizza ci distinguiamo proprio per la collaborazione di tutti e oggi abbiamo preparato un ottimo pranzo proprio andiamo sempre alla ricerca di migliorare ogni anno la qualità di questo pranzo quest'anno serviremo le tagliatelle fresche e una buona porchetta fatta, diciamo, da noi cotta sul forno a legno e tutto quanto è anche un bel modo per festeggiare il primo maggio? Certo, certo, certo è anche un bel modo per festeggiare il primo maggio la festa degli lavoratori Brufa una volta era un paese contadino oggi queste tradizioni purtroppo sono perse però il primo maggio a Brufa è partita qua sulle aglie di contadini magari con due fiaschi di vino un salame, due capocolli oggi ormai è diventata una festa di un giorno però una festa importante per Brufa di un anno che si chiama il giorno anche la festa di un anno di un anno che si chiama il giorno che si chiama il giorno è un anno che si chiama il giorno